Oggi preparo torta di ricotta e cioccolato senza farina e senza lievito. Separate in due ciotole i tuorli dagli albumi. Le uova in tutto saranno tre. Ora mettete 100 g di zucchero, 350 g di ricotta, schiacciate bene e mischiate con una forchetta. Ora aggiungete scorza d'arancia, 50 g di fecola di patate. Mescolate bene ancora fino ad ottenere un composto liscio. Poi aggiungete 100 g di gocce di cioccolato fondente. Mischiate bene tutto. Montiamo gli albumi a neve ferma. Una volta pronti, svuotate tutto nel composto di ricotta e cioccolato e fate dei movimenti per incorporare gli albumi dal basso verso l'alto. Svuotate il composto in uno stampo per torte da circa 20-22 cm massimo. Poi libellatelo bene. Ora mettetelo a cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Una volta tolto dal forno, spolveriamo con lo zucchero a velo e facciamo la prova a assaggio. Se vi è piaciuta la ricetta, commentate anche con una sola faccina. Il risultato è una torta molto morbida, profumata. Facciamola a prova anche col cucchiaio. Buonissima! Grazie alla prossima ricetta! Grazie a tutti!